Eccoci qua ragazzi bentornati in un nuovo crypto update, oggi c'è stato un casino informatico con Microsoft qualcosa che praticamente sono stati bloccati gli aeroporti eccetera ma non il mondo crypto, ci sono stati problemi informatici in tutto il mondo ma non il mondo crypto, questo potrebbe essere una notizia che fa si che il mercato reagisca positivamente ok? Sono un paio di settimane che Bitcoin è in ripresa totale tra l'attentato a Trump, tra un miliardo e mezzo di notizie, adesso oggi c'è stata anche questa, potrebbe essere che Bitcoin insomma tutta una serie di notizie che potrebbero far pompare ulteriormente Bitcoin quindi tanta roba vi porto un aggiornamento qua su BitGet delle cose che abbiamo aperte in essere tra cui il copy trading e il grid spot quindi ne parliamo nel video di oggi. Bentornati sul canale, io sono Mickey Business, se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale, in questo canale parliamo di finanza personale, crypto trading, copy trading, metodi di guadagno, qualsiasi cosa che riguarda il lucro più sfrenato. Oh, ero partito una giornata ragazzi, una giornata moscia perché c'è un caldo, c'è una roba insostenibile e poi ho detto no devo fare il video, devo fare il video e allora adesso facciamo il video e sbattiamo la penna carico. Scommentate tutti, Mickey smettita di sbattere la penna che se no si rompe. Ok quindi se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, vi ricordo prima di cominciare a cooperare nei mercati ragazzi è rischioso, si può guadagnare tanto, si può perdere tanto, non mi assumo nessuna responsabilità di quello che fate con i vostri denari, non sono così finanziari. Se volete provare BitGet ragazzi avete il 10% di sconto iscrivendovi con il mio link e inoltre avete la possibilità di ottenere fino a 6200 bonus, quindi cliccate sul link, vi registrate, email, password e create l'account. Come si ottengono questi 6200? Allora i primi 200 invitando un amico, se invitate un amico vi danno 200 bonus, poi in base a quanto depositate e quanto tradate potete raggiungere 6000. Quindi depositate 1000 e tradate 2000, 50, depositate 10.000 e tradate 100.000, 400 bonus, depositate 50k e fate 10.000 di volume, 6.000 bonus ragazzi. Ok quindi ce n'è per tutte le tasche, se siete dei trader all'inizio che state entrando in questo mondo adesso potete fare il primo bonus, siete dei super mega trader che vogliono provare BitGet, perfetto, c'è il bonus per voi, per tutti. Ok inoltre se date il referral a un amico vi danno 200 bonus, quindi tanta 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 roba. Quindi ragazzi iscrivetevi con il mio link. Ora andiamo a vedere cosa succede, allora conto futures ragazzi siamo scesi un pochettino. Perché cosa succede a livello di copy trading? Vi ricordo abbiamo detto o la valo spacca gli ultimi 60 USDT con Professor Bitcoin, ok andiamo a vedere. Praticamente gli abbiamo messo una leva 15 invece che 50, abbiamo fatto bene se no avremmo già bruciato tutto ve lo dico. Ci ha fatto due operazioni, una 10 dollari, una 5 dollari, ok vi faccio vedere qua leva 15 15 con un massimo di 60. E adesso abbiamo aperto queste due operazioni perché ha aperto praticamente a 65,8 un paio di giorni fa. Poi Bitcoin adesso era riandato un attimo giù, cioè ragazzi Bitcoin non può sempre salire. Andiamo a vedere il grafico giornaliero. Ci ha fatto 1, 2, 3, 4, 5 giorni di fila, cioè quante candele, cioè deve andare su all'infinito, non ho capito. Quindi adesso oggi, ieri e l'altro ieri, ci ha fatto due candele rosse e adesso oggi probabilmente chiudiamo verdi, ok? Vedete ragazzi? Comunque siamo in questa zona qui. Stiamo andando diciamo, sarebbe il top se tornassimo ad aggredire i 69.000, 70.000 sarebbe veramente il top del top, ok? Comunque sicuramente Bitcoin è in una fase diciamo positiva nel breve termine tra tutte le notizie che ci sono state. Adesso non ultima questa qui proprio di Microsoft, vediamo se riesco a beccarla. Aeroporti, problemi, vediamo non mi ricordo come. Voli bloccati, come si chiama? Microsoft cyber qualcosa? Cyber caos, non mi viene in mente la notizia lì. Crowd strike, ecco, crowd strike, problemi con crowd strike, cioè tilt informatico. Tra l'altro in borsa l'azione è andata giù di brutto mi sembra oggi, oggi ha fatto un bel dump del 10% così. E niente, c'è stata questa notizia che però nel mondo cripto le cripto stanno andando quindi tanta tanta roba. Ma tra l'altro non so se questo ha a che fare con anche ieri sono uscito a fare la spesa al supermercato e non andavo il pagamento col POS. E tutti hanno dovuto pagare in contanti. Per fortuna avevo dei contanti. E ho pagato la spesa col cash, il cash. Voi ci avete ancora il cash? Scrivete voi come dicevo, avete il cash? Il cash, quello cash, cash, non quello cash virtual, quello cash, cash. Bello il cash. Vabbè ragazzi stiamo divagando anche in quei... Ormai divago in ogni video. Comunque ragazzi qua la situazione. Professor Bitcoin è l'ultimo trader che stiamo seguendo. Diciamo che voglio seguire e che non sbaglia un colpo. Vediamo, apre una o due operazioni al giorno massimo e adesso probabilmente lui sta aspettando che Bitcoin torni su. Vedete, ha aperto un'operazione qua, poi è andato a mediare qui sui 64,7. E adesso aspettiamo che riraggiunga diciamo i 66k per ritornare su. Quindi ragazzi io ve l'ho detto, tra copy trading e trading ormai sono arrivato alla conclusione che è meglio fare trading. Tu sei responsabile dei tuoi denari, non puoi dare i denari ad un'altra persona. Però ho detto faccio l'ultima chance, gli do l'ultima chance perché ragazzi su questo canale andatevi a vedere tutti i video di copy trading. Alla fine vuoi non vuoi abbiamo bruciato sempre i conti. Ok, perché tutti questi trader vanno in martingale e l'eva 50 ragazzi di molto, cioè dovreste avere lo 0,001% del budget allocato per seguirli. E ho detto vabbè facciamo l'ultimo vero tentativo, quindi se stiamo seguendo Professor Bitcoin che in realtà lui ha il PL dei follower positivi. E sia a 90 che a 180 negli ultimi 7 giorni pure, diciamo sbaglia relativamente poco quindi ci può stare. Ora andiamo a vedere invece il bot. Il bot ragazzi che ci sta fruttando un buon 9%. Io stavo pensando di prelevare i profitti, che ne dite? Preleviamo i profitti, preleva i profitti. Voglio prelevare i profitti, perché in porto disponibile 1.2? 1.2? Perché? Perché? Perché se mi dà 5 di profitto solo 1.2? Ah perché sono già, sono tutti allocati secondo me. Qua andiamo a vedere. Tra l'altro il bonus che avevamo usato che era giornaliero è andato malissimo proprio, non ci ha fruttato niente. Perché ragazzi c'è il coupon che voi potete usare sul bot fino al 31, c'è l'offerta qua. Potete ricevere da 20 a 200 bonus. Avete gli ultimi 12 giorni ragazzi, quindi oltre ad iscrivervi con il mio link. Se dopo andate e volete attivare un bot gratuitamente, vi danno al minimo 20 di posizione da usare. Vi registrate e ve la danno come coupon. Quindi andatevi a vedere anche i video vecchi dove vi faccio vedere questa cosa. Molto molto interessante. A random vi danno da 20 a 200 e poi dopo lo usate e come va va. Detto questo, volevo vedere un attimo qua com'è la situation. La situation. Un po' lentino oggi internet, c'è caldo pure internet. Vedete questa qui è la nostra. Ok, perfetto. Tagli della lista, prezzo corrente. Volume di acquisto, bla bla bla. Io volevo capire. Volevo capire, volevo. Volevo capire. Qualc'è di acquisto iniziale. Ok. Io volevo vedere, volevo vedere. Sì, sì, sì. No, mi riapre sempre questa pagina qua. Perché secondo me adesso col fatto che è salito, cioè abbiamo tutto in bitcoin, quindi non possiamo prelevare gli USDT come è la storia. Volevo, volevo un po' prelevare il profitto che era 4,50. Vediamo, fammi vedere qua. Panoramica. Investimento totale 50 USDT. In questo momento siamo a quanto? Eh, dovremmo essere a 54. 54. Una roba del genere. Va bene, ragazzi. Quindi per il momento lascio così. Quando ho disponibili magari un 5 USDT prelevabili, me li prelevo. Stavo anche in realtà pensando di... Qui scrive il conto futures. Andiamo sul conto bot. Ecco qua. Ok. Vedi, 54 USDT che sono... Ah, però sono tutti in bitcoin. Ecco perché. Perché sono tutti in bitcoin? Perché attualmente cosa succede? Abbiamo tutto investito in... Ok, adesso spieghiamo la cosa perché ci sono arrivato. Ragazzi, oggi è una giornata un po' difficile. Non so, mi sono svegliato stanco. Mickey, scriveteli commenti. Mickey, quanto sei stanco? Riposati un po'. C'avete ragione, dovrei riposarmi. Dovrei riposarmi. Allora, andiamo su grid spot. Praticamente noi avevamo messo... Cioè praticamente tutti i range di compra li abbiamo presi. Quindi abbiamo comprato bitcoin, abbiamo comprato, 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 abbiamo tutto in bitcoin. Quindi adesso quello che dobbiamo aspettare per prenderci gli USDT fondamentalmente è quello di aspettare che salga. Perché nel momento in cui sale lui va a vendere una parte di bitcoin per prendere il profitto in USDT. Ok, ci siamo? Ok, perfetto. Infatti, noi da qui riusciamo a vedere... Vedete il prezzo dell'ordine? Ha comprato a 65,2, ha comprato a 66,4, ha comprato a 66,7. Insomma, ha comprato usando tutti gli USDT disponibili. Disponibili, ecco. Infatti adesso ci sono delle transazioni in sospeso che probabilmente prenderemo nel momento in cui bitcoin sale. Ecco, ragazzi. Ah, guarda, sta pompando in questo momento. Bitcoin sta pompando. 65,3. Andiamo a vedere un attimo il nostro conto futures. Oh, eh sì, siamo tornati su. Perché ecco, finalmente siamo tornati su. Andiamo a vedere un attimo. Oh, guardate che bello. Che bello. Che bello. Eh sì, perché questa operazione che è in negativo, in realtà viene compensata dalle due positive che aveva... Vediamo, ragazzi. Insomma, c'è bitcoin che sta pompando. Dovrebbe andare bene sia il copy trading che il trading bot. Poi, ragazzi, c'ho anche la posizione aperta di 400 dollari, che in realtà 100 li ho prelevati di profitto, che adesso siamo a più del 100%. Adesso magari faccio un video aggiornamento anche su quello. E vediamo. Ragazzi, quindi, vi sto facendo vedere tutto, ragazzi. Il copy trading, il trading bot, il trading normale. Alla fine della fiera, io considero, secondo me, il trading. Ragazzi, se imparate un po' a capire come si muovono i mercati, secondo me è la cosa migliore. Perché così voi capite esattamente. Siete voi con i vostri soldi, ci mettete in mano voi e non date il rischio in mano a un'altra persona. Ok? In questo caso il nostro professor bitcoin. Così poi gestite voi la vostra leva, gestite voi il vostro rischio, gestite voi il vostro capitale e siete a posto. Vi ricordo, prima di chiudere il video, che avete la possibilità, con il mio link, vi scrivete 10% di sconto sulle trading via vita. Mi raccomando, con il link e potete ricevere fino a 6200 bonus. Quindi vi iscrivete subito e poi dopo potete raggiungere fino a 6000 bonus seguendo le indicazioni di quest'altra pagina. Ok ragazzi, come sempre, noi ci vediamo al prossimo video e grazie per vedere i miei video. Iscrivetevi che dobbiamo arrivare a 1000 iscritti, ragazzi. 1000 iscritti, festa grande. Grazie.